Renato Zero, lo vogliamo? Giovanni Caccamo, Marco Masini, ma tutti gli artisti Massimiliano, Crozi se vuoi essere dei nostri, perché appunto se insieme è la parola speciale con la quale si riescono a realizzare queste meraviglie che oggi tocchiamo con mano, insieme potrebbe essere anche il modo con cui concludere questo momento speciale, ovvero con quel canto che è un momento così istituzionale ma anche profondamente intimo per ognuno di noi che è il canto degli italiani, ovvero evocare quella che è la nostra amata Italia. Allora cosa dite se magari non cantiamo insieme questo meraviglioso inno? Non vi ho chiamati ad uno ad uno, ma se gli altri artisti vogliono raggiungerci, Anastasia è arrivata? Sì, siamo tutti? L'ombagio a Floreale lo vogliamo dare adesso? Magari? O prima cantiamo, cosa vogliamo fare? Dalla regia, da regia, prima cantiamo, allora il canto degli italiani e ci mettiamo dentro tutto l'amore e il cuore che in questi mesi si è riempito della gioia di essere insieme qua oggi. Evviva! E l'Italia, l'Italia se stessa, nelle luo di Scipio se cinta la testa, dove la vittoria le porca la La chioma, che schioma di Roma, in Dio la creerò. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta, dell'elmo di Scipio, secinta alla testa, dove la vittoria le porga, la chioma, che schioma di Roma, in Dio la creò. Stringianci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. È davvero impossibile celare l'emozione in questi momenti, e quindi non celiamola, mostriamola. E vorrei anche dire ai nostri amici che ci seguono col maxi schermo che il vento ci porta il loro applauso, cioè noi durante il concerto sentivamo gli applausi anche dall'altro lato del parco. Allora abbiamo gli omaggi floreali, prego le volontarie bellissime di AVF, che ringrazio ancora. Grazie davvero, non so, ho il microfono quindi mi sento di dover dire qualcosa ancora, ma abbiamo detto tanto, abbiamo sognato, ci siamo davvero emozionati. Io non so come ringraziare tutti voi, gli artisti intervenuti. Io sono felice, grazie. Io sono onorata di sentirmi parte come volontaria di questa fondazione meravigliosa, di questa grande famiglia di Camerino, di Muccia, di Sernano, di tutta questa zona. È stupendo. Veronica, vuoi salire con noi? Scusate, scusate, io non canto, però posso fare una cosa, ne faccio una, scusa, secondo così tipo asta, ne faccio una cosa, ne faccio solo una, ne faccio solo questo nella vita, faccio le magie, quindi no, è un mazzo normale? Io sono normale? Siete attendibili, siete attendibili. Guarda, ora faccio con te, dimmi stop quando vuoi, guarda la carta, prendila, farla vedere anche a casa, si dice, no? Fatto? No, non guardo, ci mancherebbe. La vuoi cambiare? Lo devo dire, metti qui, mazzo. Signori, signori, questa, vedi qua, grazie. Cioè, scusa, abbiamo provato otto anni questo numero, tu me lo rovini così, adesso non è perché... No, 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 dicevo... In realtà dovevamo fare un passaggio di mano, no? E quindi da dietro... No, comunque aspetta, no, adesso seriamente, no, Renato, seriamente, la carta ce l'hai in mente? La carta, vi ricordate la carta? Signori e signori, la carta... L'ho rovinato! No, no, aspetta, guarda, guarda, perché in realtà è tutto scritto, ve lo dico, la carta era il 5 di picche? Non era il 5 di picche? Sette di cuori? No. K di quadri? No. No, se lo facciamo così, in realtà era tutto scritto, era tutto scritto, guardate, leggete qui, sovetto, jaskrasti, spastrava, sostreva, grazie. Ah no, in verticale va letto, guarda, sapevo che avresti scelto il 2 di quadri, vedi? E' tutt'oggi che ce l'ho, quindi non è preparato. A nulla è valso il boicottaggio. A Paris, scomparis, grazie a tutti, svanisco così. Allora, visto, scusate, sono Veronica, mi unisco perché questo mese è stato un mese pazzesco, è appena iniziato oggi, ma i 15 giorni passati sono stati pieni di motivi per celebrare la vita, innanzitutto. Allora, siccome mio marito è uno di quelli che fugge dai compleanni e ce ne sono tanti altri, però, facciamo così, usiamo un tanti auguri che è per l'Accademia, per i ragazzi e per tutti quelli che compiono gli anni oggi, vedi Giorgio, Laura nei giorni passati, qualcuno che inizia con la Z, tipo zero, non lo so che ha compiuto gli anni. Non lo so, forse. Approfittiamo, tanti auguri alla vita. Vai, grazie, così chiudiamo insieme. Buona giornata. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a tutti, tanti auguri a te. E grazie ai musicisti Nelio Biondi, dell'Istituto Musicale Nelio Biondi, meravigliosi, grazie. Grazie al maestro. Grazie. 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 Ecco qua. Renato si chiede di dire. Questo è un regalo della città di Camerino. Ah sì. Ok, nel frattempo devo dirvi di stare fermi. Questo è un regalo della città di Camerino alla mia modesta persona. Mio padre è nato a Serra Petrona, vicino a San Severino Marche. E io godo di un sangue meraviglioso che odora di sciaiuscolo e di vinci sgrassi. Tiè. Grazie Renato. Allora io vi devo dire una cosa importante, dovete stare fermi. No, vi invito a rimanere al vostro posto perché ci sarà... Andrea sta andando anche di là in piazza, di stare fermi perché Andrea Bocelli vi sta raggiungendo lì. No, vi invito a rimanere al vostro posto per la città di Camerino.